Il discernimento e l'aiuto a riconoscere i segnali con i quali il Signore si fa incontrare nelle situazioni inaspettate. Sono queste le parole di Papa Francesco durante l'udienza generale odierna. Sentiamo. Ascoltate bene, Dio lavora attraverso eventi non programmabili. Per caso, ma per caso mi è successo questo? Per caso ho incontrato questa persona? Per caso ho visto questo film e non era programmato, ma Dio lavora attraverso eventi non programmabili e anche nei contratempi. Ma io dovevo fare una passeggiata e ho avuto un problema al piedi. Contratempo, cosa ti dice Dio? Cosa ti dice la vita lì? Un consiglio che vi do, stati attenti alle cose inatesse. Questo che dice, ma questo per caso io non lo aspettavo? Lì ti sta parlando la vita, ti sta parlando il Signore o ti ha parlato il diavolo o qualcuno? Ma c'è una cosa da discernere. Come reagisco io frente alle cose inatesse? Io stavo lavorando in un ufficio bene e venne un compagno a dirmi che ha bisogno di soldi per qua e beh, e tu come sei reagito? Vedere cosa succede quando viviamo cose che non aspettiamo. E lì passiamo a conoscere il nostro cuore, come si muove. Il discernimento è l'aiuto a riconoscere i segnali con i quali il Signore si fa incontrare nelle situazioni impreviste, perfino spiacevoli. Da esse può nascere un incontro che cambia la vita per sempre, come il caso di Ignacio. O può nascere una cosa che ti fa migliorare nel cammino, o peggiorare, non so. Ma stare attenti. Il filo più conduttore, più bello, è le cose inatesse. Come mi muovo io frente a quello? Che il Signore ci aiuti a sentire il nostro cuore e a vedere quando è Lui che attua e quando non è Lui o altra cosa.